E' un po' più problematico. E' un po' più importante. Ancora, ancora avanti! Sì! Il prossimo anno prendiamo la squadra dei grandi. E' da 15 anni. Bravo Leo! Volendo potremo fare la Serie B con loro il prossimo anno. Perché... No, vediamo ciò. Perché... Questione di motivazioni, diciamo. Se riesco a puntare sui giovani, magari se lo campionato Under 18... Poi... Under 18... No, Under 21 potremmo fare. Occhio! 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 Leo scendi! I grossi sono più forti dei canali di... Eh? I grossi sono più forti di loro. Di chi? Di KFC? Eh... Vediamo adesso come va. Sì! Ma sono un po' più vecchi poi. Sì! Un anno più grande... Cambia tantissimo. Magari fai... Poi più tempo che si allenano anche. Ma riescono a battere il trisco? Eh... Ieri hanno perso contro Trieste A. Sì, ho messo. Quanti ha visto. Però dovranno... Devono rifarsi. Devono rifarsi! Poi scendere la voce, eh? Poi scendere! Vole! Ma che sono da macchina? Vole! Vai sul tre! Greg! Occhio in mezzo! Nicolò! Puzio... Puzio... Puzio! 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 Megliano! 2 a 0 mi pare sull'angolo una corda bravo occhio in mezzo prendila, aspetta, buttala su buon tiro, non è manco così 2 a 1 è bravo in posto guarda che grosso che è l'1 a 14 anni, è il braccio più grosso del mio al 3.026 è abbastanza il 26 sembra che abbia 16 anni occhio al portiere bravo che forte è nostra, è nostra con calma dai salire larghi salire larghi non abbiamo nessuno di quell'età lì non abbiamo più nessuno bravo bravo il cantino ha spinto tira una mina bravo buu qual è il potente? 2 a 3 a 0 3 a 0 ma non ho visto un parco di sicuro eh? adesso un po' parco per qualche per mettere il 4 ragazzi facciamola girare un po' via a Joshua dietro guarda il 4-0 il 4-0 il 4-0 ero corner il 4-0 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 Occhio Greg, non puoi pagare dall'altra parte Tieni 14 Greg Vai Nix Grazie La giudine! Via, via! Io di solito, io sapevo che il difensore deve contrastare, però l'ho visto fischiare adesso da Gaber diverse volte. Secondo me non è fallo, perché tu devi contrastare. La giudine! La giudine! La giudine! La giudine! Joshua, Joshua, non forziamo adesso che i tiri, fatela girare un po', quando trovate il momento buono tirate, stiamo 3-0, stiamo vincendo. Quindi Pagaiasso, sali, sali adesso, davanti, via che andiamo, vai Grechi, via partire. Dovete, occhio a non andare dietro la linea della porta. È andato dietro la linea della porta, sì, quella lì è la linea della porta che conta, no, l'albitro guarda quella. Joe, vai sull'esterno tu, Greg, guarda questo, ha il 3. Vai addosso, Leo! Bravo! Leo, non farti sfilare, non far, non vada via! Finito? Vai ragazzi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!